Salve a tutti friends, ho questo SuperCorris, che è successo? Si parte subito così, ragazzi, ho le cuffie Ho messo le cuffie Dual Pulse 3D Proprio perché volevo vedere un po' queste zozzerie di audio E ho messo la modalità Ray Tracing, quindi non siamo in 60fps, come potete vedere Però c'è Ray Tracing, guardate quanto è bella sta luce Ora vi faccio vedere la piccola differenza, ragazzi, guardate qua Sto rando che ci sia Qua non ci sta grande differenza Sto video lo voglio fare con il Ray Tracing Ciò che ce l'abbiamo Vedelta, quindi 30fps, vediamo un po' il Ray Tracing di che sa Andiamo a postare il nostro Michelino Michelino Come al solito, ragazzi, iscrivetevi al canale, se vi va Tra tutti gli altri miei canali, guardate quanto è bello il riflesso sulla macchina Qua si vede proprio pazze a scala grafica Minchia, guardate là Così cambia veramente tanto Lasciate sempre un like, seguitemi sui miei social Raga, mi raccomando, aiutatemi a donare Cerchiamo di raccogliere soldi anche questo mese Iscrivetevi al canale Telegram delle offerte SuperCauri su offerte Amazon Dove cerco ogni giorno di mettere le miglior offerte di Amazon in ambito tecnologie videogiochi C'è FruitRom, c'è il canale Viale, c'è il canale Pitori Di Telegram, per le nuose anteprimi sondaggi Cosa volete vedere? Vada pure quale ombre Tu, tu mani lì Spero tu, ma tu? Tu non lo so Sì, ma fino a che rive un'ora di una cosa, venite solo si mantengla così Steve, che piacere, ragazzo Oh... Mi ricorda di uno di quei ragazzi che guarda letteralmente di ucciderio da raggiungere di uccidrere E' un uomo che non riesco a riempire Ehi, Devin Weston? E' un amico molto buon amico Quindi vuoi guardare la tua scuola? Perché voglio dire qualcosa... E' un uomo che... E' un uomo che... Ho bisogno di ricordare quella linea E tu? Onde ci trovavamo? Non c'era, ragazzi Sì, ci trovavamo Ehi, pal, cosa facciamo qui, eh? Questo! Ah, giusto, qua dovevamo carpiri i denti al briscolino Ryo Terminan Ryo Terminan E questo? Questo è Trevor No, il nostro amico qui Diceva che non lo sa niente Non lo sa niente Non lo sa niente, non lo sa niente Non lo sa niente Non lo sa niente, per favore, per favore Sì, per favore Adi Diceva Adi I Adi Adi Ah Adi Adi Diceva Adi 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 La casa in Rockford Hills. Il ragazzo che lo ha lavorato nella consola. Oh, è tutto che ho saputo. È tutto. È tutto. È tutto. Tu fai fare parlare. No, no, no. Tu due sei saranno a Rockford Hills e quando sappiamo che è il ragazzo che è il ragazzo, tu lo sposti. Perché sono freddo di questi f***i nitwits in l'agence che prendere tutto la gloria. Allora, la f*** è tutto questo, eh? Credo che è una buona giornata, amore. Ma che bello il riflesso, ragazzi. Sicuramente fantastico. Ficcato che non va a 60. Sarbbe bello se facessero una modalità intermedia come Spider-Man, quindi 60 FPS un po' meno di Ray-Tresing. E così la grafica cambia veramente tanto. Guarda sto cretino. Tanto che va piano e piano. Ciò che fa' molto difficile mantenere i vecchi freddi. Oh, no, 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 no. Tu sai chi è avvita probleme mantenere i vecchi freddi, a*****? Mi? Dopo che hai portato a Trevor in su questo? Mi ha portato a Trevor in su dopo che hai portato a te prescrizioni. Townley sta prendendo scori di nuovo. Los Santos ripetono. Se noi non controlliamo la situazione, e se nonostrava questa connessione, poi cosa? Poi Trevor avvicina, mi ha detto, uccide la mia famiglia, oppure loro come il suo, non lo so che è più peggio. E tutto ciò può succedere a ogni momento. Prendete. Prendete. Prendete questo. Cosa sa? Cosa sa? Cosa sa che sono vivi. Cosa sa che ho avuto. E ora sa che ho lavorato con la FIB. Cosa sa il quanto tempo hai lavorato con la FIB? Quanto tempo? Cosa che importa? Cosa stai lavorando con noi prima del lavoro del depo, hai avuto la tua squadra in un'ambulso, uno di loro spento 10 anni per la runa, e l'altro si è arrivato in una penitazione federala. O... era abbastanza un trofeo. Un buon cuore per guardare sulla tua piazza. Allora, sicuramente. Non ora. Siamo arrivati, i piccoli miei. Questo posto? Davy, hanno stato scoperto i ragazzi di suburbia qui nelle ultime settimane. Non c'è la mia famiglia. Non c'è la mia famiglia. C***o. Mi chiedi? D'acqua. C***o. D'acqua via, io, 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 C***o. Sì, ci sono le due azzebasiani. Ci sono un nuovo di azzebasiano, il nome di Mr. K chiudere l'estrumento e andiamo a lavorare dove cominciamo? aspetta! cosa c'è il ragazzo? non! chi vuoi? mi vuoi? mi vuoi? mi vuoi? sparky sparky non ci vuoi! non ci vuoi! non ci vuoi! mi vuoi? non ci vuoi! come on! mi vuoi? quando tu vedi la face? non ci vuoi! M. Phillips, chiedevi su Tahir. Oh, sì. Perché non mi chiedevi? Svelo Tahir. Ho fatto il suo teatro di casa. Sì, vive in Chumash. Sì, nella costa occidentale. Ma non era così difficile, era? Sì, non era così difficile. Hai capito? Sì, lo senti? Sì, vive in Chumash, la costa occidentale. Chumash. Stai guidando. Ricordate, il terroir non prende la coppia. Eh già. Che d***o. Andiamo, friends. Che d***o. The game, hold the gap down. That seems like a productitive relationship. Like I said, he got his useds. And as you can see, they are trying to take full advantage. Then what? This thing with the agency gets put to rest, we don't need you anymore. Right. And what about Trevor? What about that? I need some resolution, Davey. You let him walk. You said you'd clean the whole thing up back in North Canada. And you told me he'd give you a clean job. No casualties. There were more eyes on that town than they needed to be. Yeah, well according to my eyes, I'll traverse your problem, Davey, as much as he is mine. He's not a problem at all. We're monitoring. Has he said anything about Brad? Fuck yeah, he has. Plenty. I keep changing the subject. You know, he thinks you might actually commute Brad's sentence when this is all over. That's right. I'm sorry. We'll send another letter. It's about time anyway. Oh, so that's you who has been sending those fucking letters to Trevor, huh? Yeah, he thinks they're from Brad. Who he thinks is locked up in high security and not, well not six feet under, is a great mark Michael Talen. The train is right. It's a good exercise. Oh, the fuck. How did that get started? This will do. Alright, find out who we're looking for. Yeah, we need a description of the target. Yeah, uh, I'll take care of it. Loosen him up. Oh no, no, please. I told you what you want to know. No, please. And we're going to get through. And we're going to get through. We're going to get through blood. Do you think they're going through these things? I don't need the jumpstart. I'm ready to talk. No, 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 not that. Shit, please. No, 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 no. Lei è una bella No hai Eh Now Now You ready to talk? Ho Re permane re Esperariat That's what we were ferventi No, no, no Mm小 addition Tu potresti essere un'azza-vagina, per tutto quello che conosco. Cosa si sembra? Si sembra esterni. Beh, questa città sembra esterni, Davey. Hai bisogno di seguire il Shah e il colapso del Communismo per ringraziare questo. Qualcuno si stessa? No, tutti si stessa inoltre. Facci un ringrazio, Dave. Abbiamo bisogno di più informazioni su questo ragazzo. Sì, hanno una partita là. Mannaggia, un'altra volta. No, non lo farà, mio amico. Sì, sì, lascio pensare. Scusate, troppo tardi, Trevor. Showi il contestante cosa ha vinto oggi. Ho vinto, ho vinto, ho vinto. Ho vinto, ho vinto, ho vinto. Oh, mannaggia, una travata. Non è nemmeno la maggior parte della Roma. Cosa? Ah, non la rocca! Non, 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 non. Ah, 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 ah! Ma che è succia quando si scriviste la trugaggio dalla Cascott sorta. O хорошо! O che è 옆iersa? All sweater dai io forth. Ahop, cosi abbiamo? Coronavirus di Trev di vivere delle ricengenze? No, 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 no... No, no, no No, 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 no Non, 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 non... Wow, non, non ha la cura... Non, 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 non non... Non, 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 non... Non c'è? Cattacchi, non c'è? Hai alcuni anziati di questa parte? Eh? Perché questo è ciò che il nome ha messo che è che è importante... ...lo chiedesso troppo veramente e a2 Tirico in un informatore ...e manda una stessa airstrivo di chumacca. Siamo tornato. Dici i tu mi occhi. Eccolo qui Nooo, un'altra volta Sant'oddio C'è un... c'è un bia, c'è un bia C'è un bia Non ho, Trey, un fois plus? Just to be sure Non, 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 c'è un bia C'è un bia C'è un bia C'è un bia C'è un bia, c'è un bia Tu dois accéder à toi, tu ne vas pas s'assassure Non c'è un bia Non 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 fassure Non fassure Non 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 C'è un bia C'è... C'è un bia Il Sempre con la bata. È il mio caso. Stoppite. Ha fatto il tricco. Basta me prendere questo. Non posso respirare. Il corso di oggi? Il corso di regolazione del governo. Non c'è un corso. Mr. K. Ah... Non. Aiii... ne ho vissuto... Fannò... Fannò cofatto. A tels friendly che sta fanno 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 ciguretoli. Se dice che fanno 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 della mozzarella non soje... ...Obinco di ciguretoli. Grazie, fanno che. Steve dice me fanno 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 ciguretoli. Non ci sono i cigaretti che li uccionano. Ci sono i ragazzi che mettono i ragazzi, che dovrebbero lavorare. E lui è l'acqua. Oh, ora ho capito. Mi ha detto che mi ha uccionato un ragazzo, perché ha un ragazzo, un cigaretti e... è l'acqua. Ah, vedo qualcuno. L'acqua il profilo. Che cos'è? C'era il ragazzo. Ho avuto un sentimento. Si, abbiamo... E l'acqua. E l'acqua. E l'acqua. Questo è un ragazzo, ragazzi. L'acqua il ragazzo. L'acqua il ragazzo. Ora, ho un ragazzo di ragazzo. Quindi, trevor, se ti occupi di Mr. K, credo che siamo allati. Cosa vuoi che vuoi fare con lui? Io diria che ha avuto la sua utilità. Oh, vieni, per favore. Oh, è l'acqua. E l'acqua. E l'acqua. Let's go, come on. E l'acqua. E l'acqua. Ili. Fa due. Andi non ai자 te dire i suoi di G-man i tuoi mi che mi hanno spieggerci, ce che faremo ne fa. Come on. E l'acqua. La Dunque. Ili. Chiudi. E l'acqua. E l'acqua. E l'acqua. Abbiamo avuto un volto per capire, ok? Siamo in avanti. Come ti senti? Ho bisogno di arrivare all'ospedale. No, sei bene. Non posso assurarti che non lo so. No! Mi piace di morire, figlio. Tu sembra bello! Devo vedere il mirro. Penso che ho bisogno di un'ospedale. Tu non vai a un'ospedale! Tu devi lasciare. Chi sei? E... Cosa ti ai 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 ai? Non mi piace essere chiesto cosa fare. Cosa stai lavorando con FIB? Sono un agente doppio. Si? E con cui hai lavorato? IAA? IAA? E io voglio te morti anche, non ti ricordi? Il Marshal? Globapoo? Globapoo? Ti chiamé Globapoo? Io lavoro per le forze di sanità. Sanità? E noi bisogna che... ... ... ... ... ... ... ... ... Ti ho messaggio. Ti ho messaggio, eh? Ok, guarda, guarda. Mi piace la tortura. Tortura per la vita di tortura? E' la mia bag. Ma ci sono persone nella nostra città, in le media, che pensano che la tortura è un modo per un fine. Lontano che ci farà un'azienda. Ci siamo dovuti fare la sottola. Tortura non sarà tornare a te amici o a te informazioni. La partita... Me! Corri! Sei libero? Ma la mia famiglia è qui. La tua famiglia è probabilmente la tua che ti ha chiamato in qui, ok? Ora, guarda, non c'è nessuno, ok? Sei solo ora. In realtà? Sì, in realtà, ora andiamo, chiamati! Vai! Condizioni eccezionali. Vabbè, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Vabbè, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Vabbè!